Adesso abbiamo aperto il passaggio segreto, facciamo le scale. Pronta? Ciao Vito! Ciao! Ti sa che mi viene bene. Ok, torniamo su! Ma non è, Carlo! Lo so, è uno scherzetto, amore, non ci sono davvero le scale. Perché? Perché era uno scherzetto, amore. Era un piccolo scherzetto che ti abbiamo fatto. Perché? Perché siamo stupiditi. Perché? Ma te era uno scherzetto, amore. E' rimasto male. No, 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 no! Prendimi! Ditto! Papà! Ciao! Perché? Mi stai facendo degli zoom in faccia. Guarda cosa c'è il papà. Guarda qua. Ciao, Rizard. Questa è tutta la prima serie completa. Perché ci siete? Perché un mio amico mi ha fatto delle carte finte dei Pokémon dove c'ero io. Ok, dobbiamo sistemare tutte queste, amore. Ci aspetta un grande lavoro. Yeah! Papà, questo è Pikachu! Papà, ma questo è Pikachu! Siamo pronti, amore? Ci abbiamo messo due ore? Un'ora? Un'ora e mezza? Siamo pronti a flexare? Otto ore! Eh, otto ore, ma... Flexiamo! Tutte in ordine di colore. Rosso, grigio... Queste sono quelle che non brillano. Poi giallo, rosso... Quelle che brillano! Set base, solo olografiche. Set base non olografiche. E carte rare che brillano. Poi, carte 3 allenatore. Carte addestramento set base. E carte energia. Ma tosse, amore, siamo troppo forti. Dai! Allora, volevo dire a mia cugina che mi ha regalato questo cappello che la Ele ha detto che è brutto. E chiaretta? Sì! No, scusami, chiaretta è stupendo. È stupendo, perché non mi dona, ma... Ma come non mi dona, dai! Altra giornata con la mia assistente. Sono il miglior datore di lavoro che hai mai avuto in vita tua. Quello è con il cappellino peggiore. Quello con il cappellino peggiore. Sembra che mi odi. Ma in realtà credo sia molto peggio di quello che sembra.